Poi, rivolgetevi a volte a più di un chirurgo per sentire opinioni diverse e per vedere con chi c'è più feeling. È importante avere feeling col chirurgo, vi dovete capire, è un percorso che si affronta insieme. Il chirurgo può essere il più bravo del mondo, ma avere dei gusti diametralmente opposti ai vostri. Allora, bisogna che ci sia anche una certa identità di gusto. Quindi, non c'è niente di male se con il chirurgo non vi capite, non vi trovate. Se a me capita qualche volta di avere dei pazienti con cui mi sembra di non capirmi, allora preferisco non operarli, perché se non sono sicuro di cosa vogliono, come faccio a sapere cosa fare? Non è che posso fare le cose così tanto per provare, ma proviamo a vedere se va bene. Quindi, col chirurgo dovete avere feeling. Il bello della chirurgia estetica non è una chirurgia d'urgenza, potete pensarci finché volete. Fatevi operare quando siete sicuri di quello che volete, che il chirurgo vi ha capito e che voi avete capito cosa vi vuole fare il chirurgo. Quindi, solo quando tutto è chiaro si può andare avanti. Nel dubbio, basta aspettare. Non c'è fretta. Se un intervento lo fate tre mesi dopo, l'anno dopo, non cambia niente. L'importante è che facciate la cosa giusta.